Buonasera a tutti, sono Francesco Lanzillotta, il direttore d'orchestra di questa produzione di Risurrezione di Franco Alfano. Oggi stiamo alla nostra seconda prova d'assieme e ci stiamo riparando per la prima che sarà appunto il venerdì 17. Vi invito a venire a questa produzione perché riscoprire un gioiello di tale portata sarà sicuramente una gioia per voi ma anche per noi che la stiamo suonando e cantando. Vi aspetto a tutti al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per questa nuova produzione di Risurrezione di Franco Alfano.